musica 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 chiudi la porta metti il s... le serranda io 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 hai mal di panza musica mi ricordo ancora ah col quadrato attivi il coso poi schiacci il cerchio se non ci sono io qua a sfondare a sfondare è un'ascia gigante non credo l'abbiano usata per abbattere aldi ah col cerchio come on come on munizioni mi spacco tutto prendo un po' di money dato che non ho preso ancora money fino adesso eh barbone come barbone lei va davanti che io tengo la situazione sotto controllo è tutto ok? bastardo sempre noi donne dobbiamo andare avanti anche voi uomini dobbiamo stare dietro a guardarvi il culo eh? i topi esamini esamini non c'è un cazzo ma era qua era così anche si oh ma non me lo ricordo potevi sparare al topolino? si non mi raccomando eh lo prendevi te eh ti incolli per ricaricare eh x quadrato x cerchio triangolo ah eh eh midi e poi x andiamo va la vedi che gentleman che salgo prima io eh anche voi qui ecco è vero dovevo salire prima ah io prendo l'erba drogato eh combina va la the master va la apra perfetto ah mica c'era comunque per me c'era qualcosa di là vabbè comunque in questo luogo cosa cosa le hanno fatto il grano turco eh beh perché non ci sono i trattori allora vuoi fare tutto a mano? trattori merda oh ma ci sono un po' di munizioni prendila lì porco demonio sono entrando e anche a te a dirmi di entrare? eh ignorante e sei stato tu a dimmi di entrare ah che spaccavamo le mele bisogna rompere le mele e qua mo sono i cazzi i primi cazzi benedicto hasta la vittoria sempre con Jake ah hanno preso il nostro amico il tuo amico e mi sa che fa una brutta e di calve com'è? aia potevamo uccidere quello lì si si però era un bastardo però era un bastardo zazam va la taglio netto precisione chirurgica bis 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 anche se mi sa che non ha ti ha visto colpa tua t'ha visto te t'ha visto te no te eri tu davanti che mostravi no te che ti appiccicavi alla finestra madò madò attacchiamo subito le mele sono loro il male sono loro il male eh c'era qualcosa c'era altro nelle muri ah spostiamo qua spinga bomba spingi spingi ma spingi quell'altro dietro di te è davanti al finestra o davanti al muro che butta giù? la finestra no muro 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 si poteva spingere sono saltato fuori aspetta che entro vedi spingi via stronzo lei non entro in casa mia capito non ha il permesso c'era qualcos'altro qui si ok di qua mi sa che facciamo una brutta fine non potevamo passare di qua nella porta da dove? venite ah però mi sa che abbiamo sbagliato una cosa perchè adesso viene quello grosso e un cazzo per forza mamma mia che precisione precisione chirurgica scrivetemi nei commenti voi con chi state guardando questa avventura eh se stanno guardando la mia no la mia nel senso mia o la tua nel senso tua il fortino perchè non mi ricordo se dopo arriva quello grosso si si e butta già il muro ok e dopo dobbiamo scappare ok no dobbiamo aprire il cancello adesso no ahhh ci sono entrati dall'altra parte fuga fuga aprite il cancello no carichiamo siamo pieni di munizioni cazzo cazzo non ho fatto una cosa ma io mi imbecille e la farò e la madonna che calcio che te hai tirato aprite guau eeeh ah ok e da mo che siamo fuori salve è ora di scappare culla madonna adesso dobbiamo scappare e ucciderli ma che cazzo sei ricorda mi sembra che devi scappare eh figuolo che ce n'hai uno bello grosso dietro ah dobbiamo continuare a scappare affinché arriva l'elicottero entriamo qua venga destra fai che dopo chiudo e la venghi non c'è più bisogno di chiudere la porta tra l'altro quello grosso ha buttato su tutto ok lei va da sinistra io vado a destra le le diciamo sbaglio qua c'erano altre cose nascoste infatti cos'era un'arma opri e la mitraglietta no dove la mitraglietta i need mitraglietta lo metto qua perfetto anche se ho sbagliato i tasti qua spacchiamo tutto ricordatevi ragazzi nei mercati spaccate spaccate tutto ce la avevi in faccia quella vuoi di mitraglia tutti i sporcazzoni pestone pestone mamma mia carbstone un altro pestone non dimmi che c'è l'amico bello grosso vicino eh devi continuare a andare a tutta l'analogic ci stanno facendo una gang bang pestone un altro pestone andiamo avanti di pestone mamma mia che ricordi questo gioco ragazzi l'avremmo finito quanto? cinquantamila volte massimo ADIO purtana eva via 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 mia corona le muniscia ma vieni qua che c'è il coso nel fuoco ho capito aspetta sei su vero orco 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 vai vai la miseria dov'è? appena in qui 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 vedi questo qui dobbiamo scavalcare di là scavalcheggi scavalcheggi ma non c'è mica anche le bombe si io ce l'ho già mamma mia mamma mia che parente di Peppa Pig bene masterlock grande diretto no ho saltato no 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 ho finito le munisciao grandeccio ma dove è quello là grosso? eh non lo so aspetta provo ad andare di qua perchè era giù di qua lo gasso è ah no è giù di là è giù di là venga sicuri e poi che sto facendo e sono qua le munizioni vieni qua sull'autobus bene io ho inculato le munizioni intanto dopo mica posso anche passarti si si salti giù anzi vai la così li faccio scoppiare vai la dove eri prima oi la è qui buon uomo no però almeno uccide un paio di nemici faccio così e voilà presi tutti no? eh vieni qua che ci sono le munizioni per terra è già preso te no ci sono ancora dietro dietro all'inizio del coso no l'hai preso te bestia ah ok perfetto perchè sono una persona che diciamo aiuta i nemici ah bastardo te non mi non me lo dai ma non veniva su quello grosso ma si a me sembrava di si a ti te sembrava di si andiamo ora vitte qua sopra ci stanno le munizioni qua 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 vieni prima che te le ruba io e che me roba se te bestia eh ho capito cosa ti ho detto andiamo di di coltellaccio aia ho sentito un qualcosa di grosso il piazza l'avevi fatto aspettare dove eh via no no ma perché non è venuto su quella era su era su proprio nel momento che ho messo piede uno scalino per scende lui è venuto e te devi arrivare via intanto ho rubato la mitaglia bastardo ah non serai te eh no no come no? ma ti metto le mani rosso io nooo ma guarda te sto qua sai che le armi che prendevi te io non ce le avevo io avevo altre armi che bel culetto com'è? che bel? culetto sporcazzone e già finito e già finito? e già finito fine del capitolo 1 di 1 eccola la vaffanculo come ti ha dato il voto a me perché? come non ti ha dato il voto? dovevo rientrare prima bravissimo dovevi iniziare non ti ha sbloccato neanche il trofeo bastardo ah 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 ho capito che cazzo come hai fatto ad entrare poi? dopo con start potevi entrare anche subito è stato il guglione che mi hai schiacciato bello mio e quindi quando finiremo il gioco ricominciamo e sblocchi il trofeo del primo cosa ignorante rango A è andato anche abbastanza bene spero che questi primi episodi vi siano piaciuti? oh io ci ho messo 13 minuti come ha fatto il bell'uomo a farlo più veloce di me? sono entrato prima sono entrato dopo aspetta che sono coglioni peggio che hai detto? spero che questi episodi vi siano piaciuti e ci vediamo al capitolo 2 e 1 o 1 di 2 1 di 2 1 di 2 alla prossima alla prossima